Allora vi faccio questo video veramente alla brutto Giuda, cioè sono fermo in un parcheggio ad aspettare, devo dare un passaggio adesso non ve la faccio lunga, a una persona e ho visto per l'ennesima volta in questi ultimi giorni un invito da parte di alcuni di voi a iscrivermi a questo nuovo social network che è Waveful, nato da pochi giorni sull'onda di quell'annuncio che poi per il momento si è stato ritrattato di precludere l'utilizzo di Facebook e Instagram di Meta, quindi in Europa, che è stata un'uscita poco coordinata da parte di Zuckerberg e poi subito smentita, insomma una faccenda complessa, però molti si sono spaventati e hanno cercato alternative, allora mi hanno segnalato, tanti ho visto iscriversi tanti miei contatti a Waveful, che ho dato una sbirciata, dovrebbe essere appunto una versione italiana, tra l'altro simile Instagram, quindi basata soprattutto su cose visuali, foto, video, simile storie. Per quanto sia molto carina, realizzata bene, del resto realizzare un'app decente e anche più decente di Instagram, non credo che sia una grande sfida, con tutto che a me Instagram piace, però è ampiamente migliorabile, io non mi sono iscritto, non so se lo farò, la curiosità mi spinge a provarlo, però vi dico una cosa, io negli anni recenti sono stato invitato altre volte a fare dei tentativi simili, ovvero iscrivermi ad altre alternative, alternative, alle decine di famose alternative a Facebook che ogni anno nascono, molto carine, alcune erano anche strutturalmente ben pensate, tuttavia alla fine sapete cosa, mi trovavo sempre il pubblico che avevo già su Facebook, ovvero quelli che si iscrivevano, erano miei contatti che avevo già su Facebook che mi seguivano sull'alternativa di turno. Il risultato la si usava per due o tre settimane, un mese e si diceva, ah che figata, molto bello, finalmente non dipendiamo più da quella cagata di Facebook, eccetera eccetera, poi inevitabilmente comunque tutti si tornava a postare su Facebook perché il pubblico era più ampio, perché ci si sentiva un po' stupidi a condividere la stessa cosa su Facebook e poi sull'alternativa, qualunque essa fosse, e quindi l'alternativa andava a morire. E io credo che Waveful, essendo dichiaratamente una copia di Instagram, credo che potrebbe fare la stessa fine, credo che farà la stessa fine fra qualche settimana e magari vero smentito dai fatti, allora ci penserò ben volentieri a iscrivermi a utilizzarla. Ma restando così fatti, non trovo sia un buon investimento di tempo, perché se devo utilizzare un nuovo social network, devo essere un social network che mi amplia il pubblico. Io parlo, attenzione, da creatore di contenuti, perché se usiamo i social, il colore intento originario, quello di socializzare, allora va benissimo. Va benissimo usare la piattaforma che ci sembra più amichevole, più friendly, più agile, ma visto che io credo che molti di voi che vi seguite lo fate perché volete dei consigli anche come creatore di contenuti, trovo che andare su un clone di una cosa che esiste già e in cui abbiamo lo stesso pubblico 10 volte, 100 volte più ampio sia inutile. Allora piuttosto sarebbe interessante fare un tentativo su TikTok, cosa che non farò, però è un social media diverso, in cui aggancerei un pubblico diverso, o su un social media russo, o su un social media asiatico, allora sarebbe interessante, avessi tempo, avessi voglia, avessi 10 anni, 15, 20 anni di meno fare questi esperimenti, però i cloni quasi perfetti di applicazioni, di social che già esistono non mi sembrano un modo per crescere come streamer, come creatore di contenuti, come scrittore nel mio caso. Questo è dal mio punto di vista, con tutto che chi, ripeto, lo fa, si scrive perché vuole sperimentare qualcosa di alternativo solo per divertimento, fa benissimo farlo, anzi sono curioso e ripeto, se funzionerà mi scriverò anch'io e ci vedremo lì. Per il momento non ho intenzione, anzi ho cercato di ridurre anche l'uso di Twitter che a me piaceva molto e di altri social a cui risultano iscritti, ma non pubblico quasi mai, o pubblico cose che pubblico già su Instagram, quindi ho deciso di seguire il motto less is more, che poi è un motto che a me piace molto. E vado contro quello che dicono altri, sicuramente più bravi, più esperti, più intelligenti di me, tipo Marco Montemagno che sostiene che ogni volta che nasce una nuova piattaforma bisogna essere i primi ad andare lì e a colonizzarla, che magari ha un senso, ma ripeto, ha un senso se vado lì e conosco gente nuova, non se conosco gente vecchia in un posto nuovo. Spero di essermi spiegato, così vi rispondo indirettamente a tutti quelli che mi hanno parlato di Waveful in questi giorni. E dal collegamento fantastico di qualità eccezionale dalla mia macchina è tutto, ci sentiamo prossimamente per parlare di cose meno noiose.